Resta per il momento presidio Covid l'ospedale Vittorio Emanuele II di Biceglie, uno dei primi ospedali in Puglia a partire con i recovery nel corso della prima ondata. Tutto questo avviene su disposizione della regione Puglia, si legge in una nota diramata dall'ASLBT per rispondere alle esigenze di assistenza dei pazienti affetti da Covid e per garantire la totale sicurezza dei pazienti no Covid. A notiziare il territorio il commissario straordinario dell'azienda sanitaria locale Alessandro delle Donne in risposta ad una nota inviata dal sindacato Fialz. Non comprendo i motivi della preoccupazione sul futuro dell'ospedale di Biceglie e continua delle donne, non appena sarà possibile, in base alle indicazioni della regione Puglia, l'ospedale sarà riconvertito esattamente come è successo dopo la prima ondata. Ma ovviamente il passaggio ad ospedale no Covid sarà effettuato quando i numeri del contagio e dei pazienti che hanno bisogno di ospedalizzazione ce lo consentiranno. Serve attenzione e prudenza. Nel frattempo continua il nostro impegno, continua delle donne rispetto alla riqualificazione dei luoghi e dei percorsi dell'ospedale bicegliese. Vanno sicuramente ricordati i lavori al pronto soccorso e alla senologia che ospita un mammografo di alta tecnologia. A breve inoltre, sottolinea il commissario straordinario, saranno avviati i lavori dell'anestesia e della rianimazione. Grazie.